bernard ruzzi master 40 wad 1 per sartan warriors allora 5 kg disco da 2 disco da 1 e barra da 20 kg porta altezza box fino ad arrivare a 62 cm ok o trampa o trampa Perfetto, non ci sono ombre, niente, ottimo. Tu avvia, premi solo avvia. Allora, 55, 55, 55, ok. 3, 2, 1, via. 3, 2, 1, via. 1, via. 4, 1, via, 7, via. ах. 8, 4, 1, viai. 9, viai. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 9-10. 9-10. 9-10. 9-10. 9-10. 9-10. 9-10. 9-10. 9-10. 10-10. 10-10. 10-10. 10-10.